Via Isole Samoa, una strada in realtà centralissima di Ostia, a due passi da Via delle Baleniere, la strada del commercio del Lido, eppure questa strada centralissima ormai è chiusa da tanto, tantissimo tempo, tanto da aver iniziato a creare forti disagi ai residenti e ai commercianti, sia per la viabilità, sia per il lavoro. Che disagi crea? Problemi ad andare in garage, prima per i dossi che si sono creati qui per le radici delle piante, e poi perché arrivati qui poi, a parte il disagio delle buche, io sono anche caduta poi fra l'altro, ma ci sono sempre macchine parcheggiate che impediscono. Perché adesso tra l'altro questo punto viene utilizzato anche per la sosta delle auto. Molte persone si interrogano soprattutto sul criterio con cui si è deciso di chiudere una strada dissestata per intero, soltanto a metà. Questa strada dovrebbe essere chiusa da lì, non qui. Ragionamento valido, anche se la moltiplicazione del disagio non produrrebbe altro effetto positivo che quello di far montare la protesta fra i commercianti, visto che attualmente la più colpita è questa esercente. Il 29 settembre del 2017, dalla sera alla mattina, hanno chiuso questa strada, senza dirci nulla. Noi abbiamo chiuso la nostra scuola alle 12. Alle 13.45 il nostro vicino, che ancora c'era, mi ha chiamato e mi ha detto Eleonora, hanno chiuso la strada. Sembra che ci sia stato un incidente, praticamente in un'ora e 45 c'è stato un incidente, sono venuti i vigili. È venuto l'agronomo che ha detto che la strada era pericolosa e l'hanno chiusa, così come l'avete vista ora. Noi di disagi purtroppo ce ne abbiamo avuti parecchi, in primis la diminuzione purtroppo delle iscrizioni. Purtroppo il disagio che hanno le mamme di non poter lasciare più qui i bambini, qui ormai o si entra contro mano o a retromarcia. Quindi è una difficoltà enorme, quindi tanti proprio per delle questioni che ormai si va tutti di corsa e ci hanno detto io non posso, perdo un quarto d'ora per ritorno indietro, poi ritorno avanti e tutte queste storie. Cioè abbiamo un corso di ginnastica di signore della terza età, che era un bel corso di 12 signore, 6 di mezzato. Sarebbe curioso inoltre capire l'origine di questi tagli che sono stati fatti qui in questa zona, perché in effetti se un criterio di intervento c'è stato per la cura delle piante viene da domandarsi appunto perché non si sia pensato in tempo anche al discorso delle radici per prevenire sempre problemi e chiusure. Da Ostia per Canale 10, Mara Zarelli.